Interessanti queste statistiche, sono sempre il mezzo che permette ai giocatori di lavorare su aspetti ben precisi. Ma come fa a colpire così forte? Non c'è proprio modo di prenderlo. 2-0. 3-0. È quella che si suol dire perfezione tennistica. 3-0. Però non avevo mai visto nulla del genere. 5-0. Povera palla. 6-0. Povera palla. Povera palla. Povera palla. Povera palla. Arriva questo giocatore. 7-0. Povera palla. Povera palla. Povera palla. Povera palla. Povera palla. Ma come fa a colpire così forte? Povera palla. 8-0. Povera palla. Povera palla. Non è il momento di esitare. La fatta da padrone in tutte le fasi di gioco. Grazie.